Il settore alberghiero dell'Ipsia di Trebisacci ha realizzato il progetto turismo enogastronomico, un mix tra cucina, ospitalità, arte, cultura e ambiente. Abbiamo scelto questo tipo di progetto perché permette di mantenere e valorizzare la memoria storico e culturale che caratterizza il territorio. L'aspetto innovativo del progetto è che i clienti possono partecipare all'approvvigionamento di beni da consumare con escursioni che riguardano la pesca, la raccolta di funghi e altri prodotti della terra. Il nostro prodotto o servizio dovrebbe essere acquistato da un'utenza che si pone come motivazione il viaggio non solo una buona tavola, ma anche la voglia di soddisfare un bisogno diffuso di conoscenze. Dovrebbero comprare il nostro prodotto o servizio e non altro perché prendiamo in considerazione l'esigenza di una quota di mercato non pienamente soddisfatta nel nostro territorio, bisogni potenziali di coloro che amano il piacere della vita e la scoperta di tutto il bello e il buono nel vivere. Garantiamo il rispetto dell'ambiente con lo sviluppo del turismo sostenibile rafforzando filiere di prodotti agroalimentari legati ai territori, tradizioni e memoria. Pensiamo di promuovere il progetto con la costituzione di un club, la partecipazione ai circuiti come Gambero Rosso e Slow Food, la partecipazione all'organizzazione di eventi con collegamenti d'agenzie, con materiale informativo da distribuire nelle fiere di settore attraverso la rete telematica. Buon alto Ionio, un gusto di sapere e sapori. Sono Serena, Ilaria, Giuseppe, Salvatore.